Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo la rubrica in cui vediamo le migliori partite del campione del mondo Magnus Carlsen. Oggi vediamo la partita contro Gretarsson, un forte grande maestro. Innanzitutto se non l'hai già fatto ti invito a creare se iscrivete qui sotto per non perdere i posti nei video, anche perché ho visto che la maggior parte di voi seguono il canale YouTube Scacchi Stamato però non si iscrivono. Oppure se è la prima volta che vedete questo canale YouTube iscrivetevi e andate poi a cercare altre pubbliche come per esempio l'apertura di Scacchi in 10 minuti che è stata molto apprezzata e seguite il canale YouTube Scacchi Stamato per non perdervi tutti i video che è pubblico. D4 è la mossa giurata da Carlsen, sfocio in un gambetto di donna e in particolare il nero ha deciso di optare per la difesa semislava. Difesa che gioco anch'io, molto molto solida e provvede quindi la costruzione di questo setup con entrambi i pedoni e C6 a difesa del primo D5. Sicuramente l'obiettivo sarà quello di sviluppare con alfiere D6 e cavallo D7 e se è possibile mettere alfiere in B7, magari con B5, quindi molto spesso si cambia il primo in C4 e poi si spinge il B5, ma vedremo che in questa partita qualcosa andrà diversamente. Infatti E3, cavallo D7, donna C2, alfiere D6, G4. Allora, subito Carlsen passa all'attacco. Questa è una linea assolutamente corretta, esiste, è una linea molto molto aggressiva, che personalmente, giocando da nero la semislava, ho studiato a fondo. Qui esistono due linee, si può o catturare colpo in G4, come ha fatto il grande maestro Greterson, oppure giocare a H6, una linea un po' più difensiva, quindi non si accetta il gambetto, possiamo così chiamarlo, si giocare a H6 e qui il bianco può continuare contro il G1 per spingere in G5. Ovviamente va un po' contro le regole generali, che dicono che bisogna prima arroccare, sviluppare i pezzi e poi attaccare. In questo caso il bianco ritiene che il nero non sia sufficientemente sviluppato per poter approfittare del fatto che il re è al centro, del fatto che il re è il bianco rimasto al centro e quindi può permettersi di attaccare subito. Ma è una linea molto molto rischiosa, quindi se vuole giocarla, studiatela per bene. Torre in G1, donna in F6, attaccando quindi il cavallo in F3, e in questo modo su torre per G4, donna per F3, risponde Greterson. Torre per G7, riprendendo il pedone, cavallo F6. Ora il Carlsen gioca al fine di G2, ma poteva anche giocare torre in G5, che per esempio potrebbe essere anche un'altra ottima linea, con idea che su donna H1, al fine di D2 e poi a Roccolungo si continuano all'attacco, magari pure con qualche attacco di scoperta, probabilmente al fine di H3 o anche al fine di D3. Invece al fine di G2 ha giocato Carlsen, e allora continuiamo con la partita, donna H5, E4. Il bianco vuole subito attaccare anche al centro, non gli basta l'attacco nella colonna G, e vuole quindi aprire linee, perché ricordiamo che anche il re nero è rimasto al centro, non è solo quello bianco ad essere esposto, quindi vuole sfruttare questo fatto. D per E4, alfiere in G5, non si cattura subito in E4, ma si attacca prima il cavallo in F6. Qui alfiere in F8 per attaccare la torre, ed è un sacrificio questo che fa Carlsen. Infatti qui, dopo alfiere per F6, alfiere per torre, alfiere per alfiere, torre in G8, vediamo che in realtà il bianco va sotto di qualità. Infatti, analizziamola per bene, qui l'alfiere bianco attacca il cavallo, mentre l'alfiere nero attacca la torre, quindi sembrerebbe vantaggioso per il bianco, ma guardate qui, torre in G8, c'è l'attacco ai due alfieri. Quindi non è due pezzi per torre, ma appunto qualità. Immagino che Carlsen aveva analizzato questa linea, probabilmente l'ha giustificata per l'attacco che scaturisce. Infatti, possiamo continuare. Cavallo per E4, donna a 5 scacco, re in F1, torre per G7. Ovviamente, qui la posizione è molto in bilico, è molto strana, è una posizione veramente particolare. Infatti, vediamo che è vero che il nero è in vantaggio di materiale, però allo stesso tempo ha il re completamente esposto agli attacchi del cavallo. Il cavallo può saltare in F6, può saltare anche in D6, questa casa in D6 in particolare può essere difesa dal primo in C5, e quindi è veramente complicato qui giocare dalla parte del nero, che però comunque è in vantaggio. Infatti, anche il motore dà rotazione meno 1 e quindi è come se per il motore il nero fosse un pelone di vantaggio, quindi la posizione è comunque vantaggiosa. Però certamente è più facile giocare da bianco. Si dice che il bianco quindi è un vantaggio dinamico, un vantaggio di iniziativa, di attacco. Bisogna capire se si può sfruttare questo vantaggio. Allora vediamo come procede. Donna in C1, gioca Karsen, probabilmente con l'idea di portare la regina nel lato di re. O F4 o H6 potrebbero essere due case molto interessanti. Donna in D8, si porta anche la regina nera a difesa del re. Donna in F4, guardate quanto è interessante questa mostrata in F4 perché controlla due case. Sono proprio le due case che ho citato precedentemente, ovvero F6 e D6. Sono le case deboli del nero. Quelle case che nessun pedone può attualmente controllare perché non c'è più il penne 7. E quindi è proprio su questo che Karsen ne vuole giocare. E su questo concetto che cercherà di creare un piano di attacco magari anche vincente. Re in F8. Il re vuole evitare gli scacchi da parte del cavallo, quindi va in F8. Donna in E5. Notate anche come la regina praticamente non può essere attaccata. Non si può giocare F6, non si può giocare Torre in G5. Quindi la regina è in una posizione centrale fortissima. Minaccia Donna a C5, minaccia le solite avanzate con il cavallo. Prima o poi si dovrà anche portare la Torre in gioco in modo tale da contribuire attivamente a questo attacco. Torre in G6. Torre in G6 probabilmente il motivo è che il nero vorrebbe fare F6, vorrebbe allontanare la regina bianca. Però cosa succede dopo Torre in G6? Che si libera la diagonale, la diagonale della regina. E quindi c'è uno scacco in H8. Che Karsen subito approfitta e gioca. Donna a C8 scacco. Re in E7. Donna per H7. Recupera un altro pedone. E quindi ora la situazione comincia ad essere in bilico. Perché cavallo e pedone per Torre, anche materialmente, inizia ad essere veramente sottile il vantaggio del nero. Qui il nero giura Donna a G8. In realtà notiamo tutti che ci sarebbe un po' in impresa. Questo pedone capisco che è difficile da catturare. Perché allontana un po' la regina dalla difesa del re. Ma in realtà si poteva catturare. Qui chiaramente è una posizione molto complicata che va analizzata a fondo. Quindi probabilmente Greterson ha avvalutato negativamente questa posizione. Reputava che l'attacco del bianco fosse sufficiente per vincere. In realtà vediamo che dopo Donna a C4 scacco, Re in E8. Qui il bianco non ha tantissime risorse. E quindi il nero mantiene il vantaggio materiale. E poi il piano sarà chiaramente quello di sviluppare alfiere D7. Magari anche Torre in D8. E cercare di uscire i pezzi. E quindi approfittare del vantaggio. Senza Donna per D4. Dopo Donna a G8. Donna a C4 scacco. F6, alfiere in F3. Il bianco cerca di portare tutti i pezzi verso l'attacco. Questo alfiere magari potrebbe minacciare mosse come alfiere H5. Ma penso sia per lo più una mossa difensiva. Mossa difensiva perché qui il nero la sta minacciando. Sta minacciando l'alfiere in G2. Ma anche Torre in G4 potrebbe dare molto fastidio. Quindi alfiere F3 difende entrambe le case. E5. Con l'idea di minacciare il pioere in G4. Dando anche scacco a Re. Qui una difesa abbastanza semplice di Karsen è B3. Che difende quindi con il pedone. Pedone per D4. Alla fine il pioere D4 è solo comunque regalato da Karsen. Cavallo in G3. Attenzione che vediamo che la colonna E ora è aperta. E quindi si libera completamente la colonna. E si sposta il cavallo sia perché può controllare la casa H5. Potrebbe anche controllare la casa F5. Anche se c'è l'alfiere che la difende. Ma soprattutto mi sa che l'obiettivo principale è quello proprio di mettere la torre in E1. Alfiere in G4. E attenzione perché qui ora gli attacchi potrebbero cominciare a essere veramente sufficienti per vincere la partita. Torre 1 scacco. Attenzione qui. Dove può andare il Re? In effetti ha diverse case. Greterson ha giurato il Re F7. Ma si poteva anche giurare il Re in D7. Non vedo nulla di sbagliato sul Re in D7. Forse in ottava non conviene perché blocca l'uscita della torre. E in D6 assolutamente no. Perché chiaramente poi ci sarebbe anche qua alle 4 scacco. Quindi il Re in D7 e il Re in F7 sarebbero le due candidate. Probabilmente il Re in D7 andava anche bene. Magari era il fine 4. Poteva giurare il bianco. Per cercare poi di dare qualche scacco. Ecco però qui interessante il fatto che il nero potrebbe pure decidere di ridare la qualità. E questo è un concetto che molto spesso capita. Quando siete in vergine di materiale ma state difendendo. E vedete che l'attacco potrebbe funzionare. Quindi state rischiando molto. Anche perché una mossa sbata in difesa vi fa perdere la partita. E là pensate anche di ridare il materiale in modo tale da entrare in un finale pari. Potrebbe essere una buona strategia per non rischiare. E quindi per esempio qui una mossa non è andata così la partita. Però una mossa interessante potrebbe essere torre in E8. Con l'idea che dopo alfiere per G6, torre per, Re per, donna per G6. La posizione è pari. Qui non c'è più nessun attacco. Siamo in un finale donna alfiere contro donna e cavallo per ogni pari. Qui il nero non avrebbe avuto alcuna difficoltà a pareggiare la partita. E invece, e torniamo indietro, perché dopo torre 1 scacco, Greterson ha giocato il re F7. E qui Karsen comincia ad attaccare sul serio. Alfiere in E4, attacca la torre. Torre in G7, gioca Greterson. E ora H3, attacca l'alfiere. Come vedete ogni mossa ha una minaccia. Alfiere in D7. Questo è l'errore gravissimo della partita. Qui la partita è già vinta. È molto complicata, però, come esercizio, magari, vi lascio di... O comunque lo vediamo. Di mettere a pausa il video e vedere se riuscite a trovare qual è la combinazione vincente che porta al matto in questa posizione da parte del bianco. Ma prima di vederla, vi faccio vedere la mossa corretta. Qui alfiere in E6 è la corretta. Qual è il tema? Il tema è che bisogna bloccare questa colonna E. Questa colonna E è troppo forte, quindi l'alfiere è determinante per bloccarla. E infatti, su alfiere in D7, qui il bianco vince con donna H5 scacco. Il re non può andare nella colonna E, perché ci sarebbero le scoperte di alfiere, in particolare l'alfiere H7 scacco, e la regina sarebbe catturata. Qui ne è costata andare in F8. Non si può neanche parare con la torre, perché verrebbe catturata. Quindi re in F8 e ora donna C5 scacco. A questo punto, anche in questo caso, sono due mosse. O re in F7 o torre in E7. Solo che torre in E7 la torre sarebbe inchiodata, e quindi banalmente alfiere via e si attacca due volte la torre. Quindi re in F7 viene giudata da Greterson, ma c'è matto in due mosse. E qui il sacrificio di Carson, che lo vede immediatamente, alfiere G6. Mossa veramente bellissima, spettacolare, perché libera la colonna E, che è la colonna determinante di questa partita. Infatti qui, se il neo cattura di torre, c'è donne 7 matto, torre per donne 7 scacco matto, e se invece il neo cattura di re, a questo punto il matto viene dato in H5. Potete sapere nei commenti se, quando vi lascio l'esercizio, quindi in questa posizione, qualcuno è riuscito a vedere l'intera combinazione di matto, che comunque non era abbastanza semplice. E ovviamente ditemi che ne pensate di questa partita. Secondo me è una partita molto interessante, perché fa vedere una manovra di attacco non semplice, anche perché Carson è stato praticamente per quasi tutta la partita sotto di materiale, e non era chiaro vedere come si poteva riuscire a vincere. Quindi si è concentrato per lo più su concetti. La colonna aperta E, l'attività dei pezzi, il portare tutti i pezzi all'attacco, e alla fine il nero ha sbagliato. Ovviamente, come sappiamo, negli scacchi vince chi fa il penultimo errore, e quindi perde chi sbaglia per ultimo. Al fine di 7 non è un errore forzato. Ovviamente il nero poteva anche vedere al fine 6, come prima poteva vedere quella mossa con torino 8, sacrificando la qualità che dava la parità. Però molto spesso, quando si è in difesa, è veramente difficile vedere tutte le mosse corrette. E allora lasciate un like se vi è piaciuto il video, vi lascio qui dei video in sua impressione, e fatemi sapere se volete che continuo questa rubrica con le migliori partite di Carson. Ci vediamo alla prossima, ciao! Grazie!